Siamo con Michele Lissia, candidato sinaco per il centro-sinistra in un posto storico per la città ma che ha anche molti problemi, il mercato ipogeo. Ecco Michele, quale futuro vedi per questo mercato nella parte attualmente vuota e cosa pensi di fare per risolvere i problemi di questa struttura? Allora, secondo me questo mercato, secondo me e secondo la coalizione, questo mercato ha un valore ed ha un valore di due tipi, un valore commerciale e un valore sociale. Uno, anzitutto perché consente alle persone di avere dei servizi di prossimità, che sono anche la possibilità di acquistare vicino casa, quindi questo per certi versi va incontro alle esigenze di tanti cittadini che abitano qui intorno e che quindi vogliamo in qualche modo assecondare. E sociale anche perché ci sono delle attività che costituiscono un ritrovo per le persone, che quindi vengono qua, si incontrano e noi premiamo molto affinché la città preservi questo aspetto di socialità. Ci sono persone anziane, persone meno anziane che comunque qui hanno dei punti di riferimento e che intendono conservarli. Per quanto riguarda il futuro, a parte i lavori che stanno facendo, che per quanto mi riguarda non sono chiari e non sono chiari neanche i progetti futuri, cioè cosa si vorrà fare con questi lavori. Siccome questa chiarezza per noi non c'è, vorremmo prendere, mettere mano alle carte e cercare di capire come contemperare bene le esigenze, perché se c'è questo progetto che mette insieme socialità da un lato e aspetti commerciali dall'altro, è bene portarlo avanti, soprattutto consultando le persone che lavorano, da un lato la cooperativa, dall'altro i cittadini, e che danno lavoro, occupazione e soprattutto sicurezza sociale alle persone che lo frequentano. Per quanto riguarda la mobilità in centro storico, si parla spesso di togliere gli auto per una strada nuova, ma questo potrebbe penalizzare gli anziani, oppure si è parlato anche di utilizzare benzi più piccoli ed elettrici. Qual è la tua idea? Allora, sugli aspetti di mobilità, anche per non improvvisarsi esperti, ingegneri dei trasporti, eccetera, ciò che ritengo opportuno fare immediatamente è avviare uno studio di mobilità, perché l'ultimo piano urbano del traffico è stato approvato, se non sbaglio, nel 1998. C'era ancora la giunta al Bergati, anzi c'era la prima giunta al Bergati, e l'assessore all'epoca della mobilità era Daniele Bosone. Questo per dirvi che sono passate ere geologiche. Che cosa ci interessa fare? Ci interessa commissionare subito un piano per cercare di capire quali sono i flussi in città, quali sono i carichi viabilistici e quali sono le zone della città che si sono densificate, che quindi hanno più residenti e che pertanto hanno bisogno di nuove esigenze di trasporto pubblico, per esempio. Da questo punto di vista ciò che interessa a noi è avvicinare le persone al centro, e avvicinare le in modo tale che possano stare, anche qui, godersi un aspetto peculiare, caratteristico della città, che offre tanto e che noi vogliamo tenere aperto a tutti. Quindi quali sono le soluzioni poi di dettaglio? Lo vedremo. Certo che se si potessero utilizzare innanzitutto dei mezzi elettrici, che quindi inquinano poco, magari più piccoli, e quindi consentono anche di garantire una sicurezza maggiore, questa è una cosa di cui noi assolutamente terremo conto in futuro. e me ne sono accorto dalla sospensione del servizio autobus 3 in Corso Cavour, io ho avuto un calo di clienti di circa 300-400 clienti al giorno, al giorno, e ho dei dati, li posso dare, per esempio molta gente diceva, ma no, ma perdi i clienti perché apri il PAM, la concorrenza, no, il PAM è aperto a maggio del 2021, perché ho i dati registrati, mentre l'autobus è stato tolto nell'estate del 2016. Quindi ho visto delle interviste di allora, sono andato a cercarle, per quanto riguarda il parere dei commercianti del centro storico, soprattutto Corso Cavour, ed erano tutti negativi, tranne un paio, che non sono influenti, per dire. Cosa volevo dire? Cioè, se il supermercato, che è la massima attrazione della clientela, per diciamocelo che era tondo, che Luigi, cioè il supermercato, è un po' da traino a quello che è il nostro centro commerciale, riesce a, cioè, arriva a perdere 300-350 clienti al giorno, e poi sono aumentati ancora. Diciamo, qual è l'utilità di aver tolto un autobus da Corso Cavour? Cioè, qui arrivavano persone dall'estremo oeste di Pavia, e arrivavano persone dall'estremo oeste. Io facendo quattro conti, ho calcolato circa 48-50 passaggi al giorno dell'autobus 3, solo andata, poi c'è anche il ritorno. Cioè, un autobus passo ogni quattro volte in un'ora circa, no? Ok. Ho calcolato circa 1.500 persone al giorno. E queste 1.500 persone al giorno non ci sono più. A quel tempo, ho constatato questa sparizione di clienti, diciamo, di possibili clienti, mi sono recato dall'allora assessore Rufinazzi, e gli ho presentato, non questi documenti, ma altri più precisi, che ho scaricato dal sito di Carrefour, diciamo. E adesso non riposo più le perive perché sono troppo vecchi, però ce li ho i miei a mano. E lui mi disse, guarda, c'è una novità. Dice, abbiamo tolto quell'autobus lì, però ti do la piantina, dal prossimo mese in avanti ci sarà il Trecentro, lo chiamiamo così, che farà da Pavia Est fino a Pavia Ost e ritorno, eccetera. Io sono venuto via da quell'incontro lì, abbastanza, diciamo, soddisfatto, in attesa di vedere, non ho mai visto niente. Non ho mai visto niente perché quell'autobus lì lo trovo tutte le mattine, io ho a Vittorina Rolo, faccio viare Cremona tutte le mattine, e c'è davanti sia il piccolo che il grande, ma il piccolo è sempre vuoto. Non lo prende nessuno. Io non so come faccio a venire un servizio di questo tipo, quando un autobus piccolo è sempre vuoto. poi lo incontro anche tutte le mattine perché faccio il giro qui in via Moscheroni, vado a Piazza, tutte le mattine, dalle undici a mezzogiorno, un mio giro obbligatorio, vado in Piazza Botto, Piazza La Minerva e torno indietro in Corso Cavour. Cioè a Corso Cavour, tranne i bar che hanno i tavolini in mezzo alla via, non c'è più niente, i miei costi chiusi, perché? Perché la gente manca, c'è poco da fare. Se la gente non arriva in centro, non arriva in centro non solo per me, ma per tutti, non arriva in centro per tutti. E manca a me, ma manca anche per tutto il resto del commercio. Dal 2016 in avanti, cioè fino al 2016 non c'era un negozio più, la strada nuova e Corso Cavour specialmente. Oggi ci sono, c'è stata un'inchiesta fatta fisicamente, sono 21-22 negozi chiusi. E la domanda qual è? E la domanda è... Possiamo rimettere il 3, perché la vera è difficile. Cioè il 3 grosso in centro... Non credo che si possa riaprire. Il 3 grosso è d'accordo, però io non ho mai visto l'autobus 3 prendere sotto una persona, vivo a Pavia da... Faccio commercianti qui a Pavia da 50 anni, non ho mai visto. Ho visto delle biciclette cadere davanti ai negozi, ho visto qualcuno tagliarsi la faccia cadendo per terra con le biciclette in mezzo alla gente, però l'autobus non ha mai fatto quei danni lì. Per cui io non sono un tecnico di per settore, posso solo dire che in centro, oggi come oggi, siamo quasi a fallimento. Io, devo dire la verità, un altro dato, lo dicevo prima il signore, nel mio punto vendita qui in piazza lavoravano 12 persone, tranne me, scusate, e adesso sono i 9. Sono i 9. E posso dire che io mi salvo, perché avendo totodipendenti, c'è meno lavoro, meno dipendenti, tiro avanti, tiro avanti, ma è una delusione, ma tiro avanti. prendiamo un negozio qualsiasi, perché chiudono? C'è dentro la famiglia, marito, moglie, oppure, che ne so, un titolare con un commercio, quello chiude. Si può cosa fare? Ma allora, escludo onestamente che sia possibile rimettere un autobus grosso di 12 metri in una zona così, perché è diventata una zona pedonale, probabilmente lo sarebbe diventata pian piano, perché le grandi, le città medie come Pavia, hanno la tendenza poi a pedonalizzare il centro. La cosa, secondo me, che si può fare è cercare di capire perché, se è così, monitorando i carichi anche delle persone, per cercare di capire perché il trecentro non carica abbastanza persone che poi arrivano al centro. Questa è la cosa che si può fare. Vedere se il percorso è giusto, cercare di capire le motivazioni e lo studio di cui parlavo prima, che è quello di capire come si è differenziata la città in termini di mobilità, ci serve a capire anche questo. perché magari alcune abitudini sono venute meno, probabilmente anche perché non c'è più l'autobus. Però se serve, la cosa che ho detto da subito è che noi abbiamo interesse ad avvicinare le persone in centro affinché si possano godere ciò che il centro storico in particolare qua offre. Quindi questo lo faremo da subito e cercheremo di capire se da questo punto di vista possiamo dargli una mano. Sicuramente se il mercato coperto viene ristrutturato bene e forse c'è più offerta e c'è la possibilità per le persone di entrare anche dall'altra parte, godersi il mercato, viene tenuto meglio, non vi piove in testa e tutte queste cose qua, magari, diciamo, da un certo punto di vista vi può dare una mano. Un altro fatto che ha causato questo allontanamento del centro storico è sicuramente associato al fatto che mancano i servizi per portare la gente in centro. C'è altri negozi storici e di solito una volta si parlava della licenza che ha un certo valore se vende la licenza. Perché si chiude? Perché non ha più valore, perché non c'è più passaggio. Una volta il negozio aveva un valore quando c'era una certa, come posso dire, attrazione per le vendite e anche perché il passaggio che aveva il punto vendita, perché se abbiamo un negozio via Mascheroni o abbiamo un Corso Cavour cioè Corso Cavour vale 100 o via Mascheroni vale 20, no? Sì, sì. Quindi sparendo anche i negozi storici che facevano, diciamo, il bel vedere in Pavia Centro Storico e la gente vede anche meno i negozi. C'è una cosa che tira l'altra. Per cui cos'è? Qual è il problema? Cioè, risolvere il problema è portare la gente in centro. Certo. Perché se circola la gente... C'è qualche commerciante di Corso Cavour che mi diceva eh, ma l'autobus 3 non faceva fermare le persone davanti alle vetrine. Io, un parente, un paio di amici, eh, ma non è vero. L'autobus 3 non ha mai proibito di fermarsi alle persone di fermarsi davanti alle vetrine. Adesso non li hai più le persone davanti alle vetrine. parliamo di decoro e sicurezza. Due punti su cui il centro-destra ha fatto campagna attuale cinque anni fa poi la situazione è quella che si vede. Cosa farai per migliorare la realtà attuale? Sì, da questo punto di vista allora io come primo punto del mio programma che tutti potete consultare sul sito lissiasindaco.it o michelilissia.it c'è il lavoro. A me interessa il lavoro, il lavoro come strumento di inclusione sociale, promuovere il lavoro, promuovere l'attività, promuovere l'innovazione. Cioè questo è il mio concetto. Se vedete il programma del centro-destra c'è scritto decoro e sicurezza come cinque anni fa. Poi decoro, sicurezza e pulizia come cinque anni fa. Poi se avete visto questi cinque anni sia il decoro, sia la sicurezza, sia la pulizia sono peggiorati drasticamente. Perché una cosa è promettere, l'altra cosa è avere un'idea in testa di città. Cioè che città vogliamo? Io credo che una città più solidale che si fa carico dei più deboli e vi faccio un esempio banale. voi andate in via Mentana qua dietro e un mese e mezzo che c'è uno che dorme con un sacco a pelo lì. Un mese e mezzo. Adesso voglio dire si può dire quello che si vuole però se avessimo dei servizi sociali un pochino diciamo più inclusivi che si prendono in carico queste persone e danno loro una prospettiva di vita leggermente diversa. Questo che dorme per strada poverino così come tante altre persone che sono sbandate che hanno problemi psichici che sono senza fissa dimora che sono ragazzi magari minori non accompagnati e che magari oggi sono buttati al villaggio San Francesco in modo vergognoso quando dovrebbero essere accolti e instradati affinché se hanno problemi vengono rieducati altrimenti vengono immessi nei circuiti lavorativi e sociali. queste persone oggi diciamo hanno solo la possibilità di nuocere a Pavia perché? Perché nella loro condizione disgraziata non possono che fare danni se noi invece abbiamo la capacità di includerli e di ripulire le strade nel senso di togliere queste persone dalle strade e rimetterle nei circuiti sociali giusti la città è più sicura. Sulla pulizia c'è un altro problema invece sulla pulizia c'è un problema che bisogna riorganizzare ASM che è un valore ASM è un valore però bisogna riorganizzarla da un punto di vista amministrativo bisogna farla non concependo i consigli di amministrazione così come i posti dirigenziali all'interno di ASM come delle cose da conquistare come un bottino di guerra ma bisogna metterci delle persone che siano capaci competenti e valorizzare le competenze che già sono all'interno di ASM e che invece non vengono sfruttate e qui occorre un po' di visione politica secondo me la riorganizzazione di ASM in alcuni casi potrebbe darci la possibilità di rendere l'azienda più efficiente più organizzativamente a posto e più capace di pulire meglio la città questa è una sfida non sarà facile questo fa il paio con la valorizzazione dei dipendenti che sono all'interno del comune che sono tanti e molti di questi in questi anni erano impauriti non sapevano neanche cosa fare e quindi vogliamo valorizzare queste persone tranquillizzarle e dire loro che se vogliono contribuire il miglioramento della città ciascuno nel proprio ruolo in comune può farlo e ci può dare una mano quindi ciò che secondo me è da fare è far venire le persone a Pavia non solo quelle che stanno in periferia ma tutti però per questo Pavia deve essere attrattiva sapete sapete che negli ultimi due anni non c'è stato un assessore alla cultura non c'era una mostra non c'era niente se non qualche mostra anche piccola ma interessante qua quindi la cultura il turismo sono tutti temi trascuratissimi da questa amministrazione e le persone vengono a Pavia se c'è qualcosa di interessante poi vengono qua magari scendono le scale se promuoviamo bene come comune anche il sottomercato perché come vi dicevo per noi è un valore magari scendono se lo ricordano non ritornano una prossima volta eccetera eccetera se noi invece non attraiamo nessuno a Pavia se non magari a vedere una volta ogni anno per un giorno la partenza di una corsa molto bella come la Milano Sanremo però che dura una giornata cioè Pavia deve avere tutte le settimane qualcosa da offrire alle persone in modo tale che le persone vengono a Pavia e ne apprezzino la bellezza e qui bisogna fare percorsi turistici decenti bisogna cercare di mettere in rete i musei che ci sono e che nessuno frequenta sapete che io ho chiesto se esiste la possibilità di avere un biglietto unico per tutti i musei l'ho chiesto all'università l'università ce l'ha ho chiesto al comune il comune non ce l'ha cioè uno che viene a Pavia dovrebbe essere incentivato a poter conoscere tutte le bellezze di Pavia per farlo dobbiamo primo comunicarlo all'esterno due avere un'offerta culturale decente tre essere capaci di promuovere bene la città se uno invece arriva a Pavia ci sono ancora le rastregliere delle biciclette di ASM di 15 anni fa di un servizio che ormai non viene più gestito che sono abbandonate arrugginite e nessuno è neanche più capace di smontarle e di toglierle occupano un pezzo di piazza e poi magari come dire restringono anche la porzione di piazza che potrebbe essere eventualmente dedicata a metterci dei tavolini e quindi per quel che si può consentire anche agli esercenti fuori di avere un po' più di lavoro quindi secondo me Pavia va un po' ripensata ci vuole un po' più di cura in questi anni non c'è stata cura c'è stata incapacità totale di ascoltare i cittadini e ciò che ha prodotto è che si sono cresciuti comitati su comitati per dire no e per dire che questa amministrazione sta facendo solo danni alla città questo è il problema secondo me Passiamo un attimo alle tasse sul commercio nel 2015 c'è stato un sensibile aumento dell'Atari che ha penalizzato molto i commercianti pavesi se sarai sindaco cosa pensi di fare? Allora ci sono alcune tariffe dell'Atari che vengono in qualche modo registrate in termini di diciamo di ampiezza e di entità sulla base dei provvedimenti che vengono assunti da Rera e quindi su alcune cose si può fare si può incidere poco su altre invece rendendo efficiente di più l'amministrazione in particolare ASM che è un'articolazione funzionale dell'amministrazione cioè ASM non è un contropotere per cui ci va ci arriva uno della lomellina che comanda e decide di fare quello che vuole ASM è un'azienda che è un braccio operativo del comune e che deve funzionare e possibilmente non deve essere quello che è successo prima nel 2015 e poi purtroppo adesso nel 2015 è stato arrestato una persona che aveva rubato un milione di euro è stato condannato a sei anni di carcere e ha dovuto restituire un milione di euro e questa persona era candidato sindaco per la Lega nel 2000 perché non se lo ricordasse chiaro? nel 2023 cioè poco tempo fa un altro scandalo noi siamo garantisti aspetteremo l'esito dei processi però come sapete intanto una persona è stata arrestata e alcuni sono stati indagati e sono sempre della stessa parte politica e ha voglia che il rigano o il precedente management si mettano lì a sistemare di nuovo SM e cercare di darle una caratterizzazione di lavoro nel solco della legalità SM deve continuare a lavorare nel solco della legalità e soprattutto essere organizzata in modo che non sia come vi dicevo prima un luogo in cui ciascuno può fare quello che vuole ma deve rispondere alle indirizze e alle direttive del comune di Pavia che come sapete detiene oltre il 95% delle quote quindi secondo me l'aspetto fondamentale è che sull'Atari si può lavorare soprattutto se si rende un servizio più efficiente che costa meno e quindi impiega meno risorse e vi faccio un esempio banale un esempio banale di cui ho parlato e parlo anche nelle periferie secondo me la tassa sullo sfaccio per cui si danno i contenitori si fa pagare 100 euro alle persone che curano il verde è una boiata pazzesca perché chi contribuisce a curare la città cioè coltiva un albero la siepe eccetera dovrebbe essere incentivato a farlo non pagare ecco pagare 100 euro per ritirare il verde allora mettiamoci dei cassettoni intelligenti con i sensori uno in ogni quartiere e ognuno va lì a riversare il proprio verde senza bisogno di andare né a Montebellino né senza bisogno di nascondersi e magari scaricarlo sul lato della strada anche lì secondo me cioè bisogna far partecipare i cittadini a rendere Pavia più bella sapete qual è la controindicazione di ciò che è successo facendo pagare 100 euro a tante persone per avere un contenitore per il verde che tanti hanno tolto l'erba e ci hanno messo l'erba sintetica perché hanno detto così almeno non la taglio ma l'erba sintetica migliora la qualità della vita in città no? fa riscaldare di più la città d'estate e fa schifo d'inverno questa è la verità quindi secondo me bisogna avere insomma l'intelligenza di dire cari cittadini facciamo un patto noi non vi freghiamo cioè noi amministrazione vi veniamo incontro voi dateci una mano a rendere la pavia più bella e questo discorso va fatto con i cittadini con le imprese con le aziende con i commercianti con la partecipazione partecipazione che in questi anni come sapete non c'è stata ecco parliamo proprio di turismo cultura che hanno un legame stretto con il commercio se sarai il sindaco cosa intendi cosa intendi per rilanciare questi punti fondamentali per l'economia della città finiti soprattutto la cultura per cui tu hai recentemente anticipato le intenzioni di quadruplicare il budget in secondo piano con questa amministrazione allora guardate su questo è incredibile pavia è una delle poche città capoluogo che non ha l'imposta di soggiorno cioè io cittadino pavese ormai da 24 anni vado a Roma e pago 7 euro vado a Firenze ne pago 7 vado a Venezia ne pago 7 chi viene a pavia chiunque paga zero qual è il risultato che il budget in particolare che ha la cultura è un budget ridicolo il budget libero della cultura molto spesso è 150 mila euro all'anno ciò significa che se 200 o 300 persone si quotano possono tirar su più soldi per fare un budget superiore rispetto a quello del comune che è una roba ridicola lunedì era qua Giorgio Gori sapete che Bergamo è rifiorita in dieci anni l'ha amministrata bene Giorgio Gori mi ha detto che il budget invece di Firenze che riesce a ricavare dalla tassa di soggiorno è di 2 milioni 700 mila euro con questo lui è riuscito a fare Bergamo insieme con Brescia capitale della cultura fare mostre permanenti portare in tutte le sue forme espressive diciamo offerta culturale che è piaciuta molto e che rende Bergamo molto attrattiva noi siamo onesti e sinceri non ci arriveremo a 2 milioni 700 mila euro all'anno ma supponiamo già con delle proiezioni che ho fatto di far aumentare il budget da 150 a 600 mila come? con 2 euro di tassa di soggiorno io l'ho detto anche agli albergatori ho detto ma secondo voi se viene qualcuno a Pavia che paga 80 euro una stanza o 70 o 60 non è interessato a pagarne 62 72 82 per poi uscire e vedere percorsi turistici le strade più pulite un concerto una mostra delle attrattive in città non è più interessato o magari avere un marketing territoriale che ci consente a noi di essere visibili a Milano Milano nell'ultimo anno ha avuto 10 milioni di turisti 10 milioni di presenze turistiche se solo il 5% di questi venissero a Pavia 4% venissero a Pavia noi avremmo con 2 euro di tassa di soggiorno 800 mila euro 1 milione di euro all'anno per dire che noi abbiamo questa possibilità e dobbiamo farlo perché se Pavia vi dicevo non viene percepita come una città attrattiva dove uno viene a vedere la mostra poi entra in un negozio dopodiché dopo che entra in un negozio magari viene di qua scende qua e mangia qualcosa si compra il pollo entra ad ad adicotarsi ecco dico delle cose per dirvi che dove c'è gente dove c'è attrattività c'è lavoro c'è interesse c'è ecco in qualche modo c'è anche sicurezza perché più c'è partecipazione più c'è presenza di persone soprattutto di notte quando voi passate ci sono delle vetrine chiuse quello è l'indice peggiore di come sta diciamo tornando indietro l'aspetto della sicurezza questo è l'aspetto quindi noi dobbiamo creare occasioni opportunità occasioni di crescita in città e soprattutto questo ve lo dico perché fa un po' il paio con con la sicurezza dove c'è cultura e c'è aggregazione per i giovani per le persone e dove c'è sport anche qui c'è aggregazione ci sono meno sbandanti ci sono meno persone che hanno interesse a bighellonare perché sono coinvolti in un progetto di città hanno l'idea di essere inclusi di contare qualcosa e così vale in tutti gli ambiti della vita chiudo dicendovi questo noi abbiamo un'idea e ve la dico qua anche sul PGT la nostra idea di preservare Pavia perché Pavia ha questa caratterizzazione naturalistica che la differenzia rispetto a Milano Pavia abbiamo il fiume abbiamo tante aree verdi tanti polmoni verdi che vanno manutenuti non va lasciata l'erba tre metri alta che diventa ridicola però se noi preserviamo il verde di Pavia le zone verdi ed evitiamo il consumo di suolo inutile mantenendo un consumo di suolo zero e spingiamo molto sulle aree da recuperare che sono le aree dismesse da rigenerare noi avremo un volano di crescita anche per la città importante e se vengono delle aziende il comune si deve impegnare a stendere tappeti rossi affinché queste aziende vengono perché se creano lavoro ci sono stipendi in più e la gente invece di andare a comprare le cose scusatemi non ho niente né negozi dove vendono le cose a un penni o le robe che arrivano magari da paesi dove sottopagano dipendenti dove ci sono i bambini che si mettono a cucire a mano i palloni eccetera eccetera magari vengono a comprare di più avendo lo stipendio delle cose di qualità di negozianti che invece producono le loro cose qua in Italia o comunque in luoghi dove la sicurezza del lavoro è decente quindi noi scommettiamo molto sul lavoro sulla cultura sull'inclusione sociale e naturalmente sullo sport e per qualsiasi cosa insomma restiamo a disposizione un punto sulla sicurezza diciamo la devo fare perché con un punto vendito come il nostro dove entrano persone di ogni situazione va fatto un controllo molto più severo nel centro storico perché ci sono gruppi di ragazzi e anche non ragazzi che si divertono a venire giù a rubare e questi personaggi qui stazionano qua sopra cioè non è che uno viene dal borgo e viene qui per rubarmi la coca cola o viene qui per rubarmi un pacchetto di caramelli ma ieri mattina abbiamo toppato un tizio che aveva 43 euro di tonno nella borsa 40 euro di tonno sì perché purtroppo purtroppo c'è questa moda chiamiamola che chi ruba poi va in altri posti a rivenderla è una cosa che si è già verificata anche in altre città eccetera però dato che questa situazione è fomentata da persone ragazzi eccetera che paziano qui nel centro storico secondo me basterebbe un po' di controllo per sviare via un po' tutte queste situazioni stamattina io ero fuori perché ero dal commercialista sono tornato stamattina e non di più anni fa il mio ragazzo mi ha detto che ha dovuto chiamare il 113 perché c'era un tipo dentro che ne ha fatte di ogni e ci sono cercano di rubare delle cose e le ha fatte tirare fuori e alla fine poi si è pagato il brick di vino se ne è andato e la mercella era lì noi tutti i giorni siamo in quelle condizioni tutti i giorni siamo in quelle condizioni io ho peccato tante di quella gente di rubare nel punto vendita perché se dovesse mettergli in fila vado fino a Roma e torno indietro io mi riallaccio al problema del turismo noi nel 2010 siamo stati a Milano dove c'è la navigazione sui navigli e avevamo chiesto sempre riallacciandosi al discorso di quanto turismo porta a Milano se solo il 5% il naviglio pavese diventasse navigabile e ci fosse una chiatta che scende da Milano arriva alla Certosa permette la visita alla Certosa di Pavia prosegue arriva in Viale Bligni dove c'è la possibilità di girare e tornare indietro questo sarebbe tanto per la città di Pavia anche in percentuali pure del 5% però 5% di 10 milioni di turisti per Pavia è tanta roba e tanta roba poi un'altra cosa che non è stata diciamo tenuta presente è anche il discorso delle cassette per le deiezioni degli animali che sono scomparse che sono scomparse bravo ma sapete perché sono scomparse ve lo dico io ve lo dico io perché tutte queste strutture che vengono messe fuori poi il comune dovrà pagare un X all'ASM perché se io faccio uscire un camio e questo mi fa 500 fermate al giorno ogni fermata costa tot allora per fare quadrare i bilanci hanno preferito fare sparire i punti di fermata Teto News l'essenza della notizia di fermata da notizia di fermata l'essenza di fermata di fermata di fermata Grazie a tutti